Ben ritrovati, eccoci nuovamente in studio. Io sono in compagnia del dottor Roberto Boffi, che è responsabile pneumologo all'Istituto Nazionale dei Tumori. Benvenuto. Dunque, l'argomento è di quelli importanti, che andrebbero sempre tenuti davvero in grande considerazione. Forse un po' troppo spesso non è così, ma noi ci torniamo anche in vista della giornata mondiale contro il tabacco o senza tabacco, il Notobacco Day, che sarà tra pochi giorni. Che cosa avete organizzato e in che data per questo evento internazionale? Beh, noi all'Istituto Nazionale dei Tumori, devo dire, da molti anni festeggiamo il World Notobacco Day con grande soddisfazione insieme ai ragazzi delle scuole. Quindi ci piace non fare tanto campagne terroristiche, ma motivazionali positive con i ragazzi, possibilmente coinvolgendo dei loro coetanei. Quest'anno, anche se il World Notobacco Day è internazionalmente festeggiato il 31 maggio, anticiperemo al venerdì 29 maggio, perché è più facile naturalmente far venire centinaia di ragazzi delle scuole nella nostra aula magna. Quindi dopo domani, insomma, tra due giorni. Esatto, esatto, manca poco. Quindi anche quest'anno cercheremo di stupirli con dei dati scientifici che vengono anche dalle novità, diciamo, in letteratura di questi ultimi mesi e dai nostri esperimenti in diretta, perché ci piace far toccare ai ragazzi la capacità che ha il fumo di inquinare in varie situazioni, tipo all'aperto, dove uno non pensa magari che sia capace di generare così tante sostanze inquinanti. E poi parleremo anche delle novità più all'avanguardia, diciamo, di moda anche, la sigaretta elettronica, prima quelle di vecchie e ora quelle di nuova generazione. Noi avremo modo, insomma, di scoprire qualcosa anche in questa sede oggi. Insomma, ridendo e scherzando, dottore, sono passati ben dieci anni dall'entrata in vigore della cosiddetta legge Sirica, che ha vietato il fumo nei luoghi chiusi. Quali novità possiamo raccontare oggi sul fumo attivo e il fumo passivo? Beh, intanto bisogna dire che è stata sicuramente una delle leggi più importanti degli ultimi decenni. Mi lasci aggiungere una cosa, molto criticata all'inizio e ben presto però, osannata e ringraziata da tutti, da fumatori e non fumatori. Il 90% dei fumatori, in un'inchiesta che è stata fatta dall'Istituto Superiore Sanità, ha dichiarato di essere favorevolmente poi orientato, influenzato nei suoi comportamenti dalla legge antifumo. Erano delle polemiche, temo, credo, molto anche strumentali e interessate. In realtà la maggior parte dei fumatori sono ben felici anche loro di vivere, di mangiare, di bere gli aperitivi in luoghi pubblici meno affumicati. E poi è questione di abitudine, di cultura. Era una cosa che nei paesi più avanzati in termini anche di leggi era ormai inevitabile fare. Devo dire che per una volta l'Italia è stata all'avanguardia in Europa. In Europa è stato uno dei primi paesi. Io ricordo che i primi tempi andai in Spagna, dove ovviamente invece ancora il divieto non esisteva, fu davvero traumatico, no? Sì, sì, in Danimarca, in Austria. Dopo poco tempo. Sì, sì, ancora pochi anni fa mi è capitato anche dei miei pazienti asmatici, in quanto pneumologo, che sono stati mali con crisi respiratorie da fumo passivo in nazioni, come l'Austria, dove fino a poco tempo fa si fumava ancora nei bar e ristoranti. Anche perché adesso a noi fa ancora più impressione, non siamo abituati più. Sembra una legge che ormai è un secolo che c'è in vigore. Quindi penso che non si torni, spero che non si torni più indietro. Sarebbe assurdo. Sarebbe assurdo, però a qualcuno ha dato fastidio. In realtà non molta gente ha smesso di fumare. Secondo me è stata in parte anche un'occasione persa. Avremmo potuto aiutare di più i fumatori coinvolti in questa modifica di stile di vita, magari aiutandoli di più, anche con degli incentivi economici, degli sconti per gli accessi ai centri antifumo. Comunque, vabbè. Cavalcare l'onda, insomma. Ci sono dei dati epidemiologici che dimostrano che già a sei mesi c'è stata una netta riduzione degli accessi in pronto soccorso per eventi schemici. Quindi l'abbattimento dell'esposizione al fumo passivo ha portato un beneficio alla salute della popolazione italiana già a breve termine. Parliamo ora di sigarette elettroniche, perché dalla loro introduzione sul mercato ci sono stati momenti anche di aspra critica, no? Anche da parte del mondo della scienza, della medicina. Come mai e che cosa è cambiato se è cambiato? Diciamo che come purtroppo spesso capita in Italia ci sono create delle fazioni, dei partiti. In realtà la nostra posizione, la mia anche, dell'Istituto Nazionale dei Tumori è stata sempre quella di parlare, diciamo, di essere dalla parte del cosiddetto principio di precauzione. Quindi dire, come ha detto peraltro l'OMS, le società scientifiche europee, italiane, di pneumologia, che non c'erano e non ci sono ancora delle evidenze sicure né sull'efficacia per smettere di fumare, né anche sull'inocuità. In particolare noi all'Istituto Tumori, assolutamente senza avere nessun preconcetto, abbiamo fatto uno studio importante, indipendente, quindi con il 5 per 1000, quindi con i soldi dei cittadini, dei contribuenti, per valutare la presenza di sostanze irritanti in un ambiente dove si svapa, cioè dove si usa la sigaretta elettronica che emette un vapore, non è un fumo. E abbiamo trovato, ad esempio, mentre non abbiamo trovato sostanze cancerogene, nel cosiddetto black carbon, che è la componente dannosa, diciamo, corrisponde alla presenza di sostanze dannose e cancerogene delle polveri sottili, abbiamo trovato i metalli pesanti. Abbiamo trovato, ad esempio, quattro volte più nickel di quanto sia liberato da una sigaretta normale. Abbiamo trovato il cromo. Quindi ci sono dei metalli pesanti che, ad esempio, delle persone irritanti, a cui irritano tipo le persone allergiche, possono dare fastidio. Quindi assolutamente la nostra posizione è, se volete usare la sigaretta elettronica, andate a svapare fuori, come attualmente si deve andare giustamente a fumare fuori. Senta, noi stiamo guardando adesso delle immagini che sono state realizzate l'anno scorso sul fumo passivo in una discoteca all'aperto. Adesso stiamo vedendo in particolare un grafico. Un filmato che è stato realizzato, lo ricordo, con la partecipazione anche della nostra Elisa Dallanoce. Ce lo vuole raccontare brevemente? Abbiamo un paio di minuti. Noi in questi 15 anni di World Not Tobacco Day abbiamo sempre cercato di far capire ai ragazzi quanto il fumo è incredibilmente capace di inquinare, più anche di un motore. L'anno scorso abbiamo fatto una gara, ad esempio, con un tir diesel. Abbiamo dimostrato che una sigaretta inquinava cinque volte più di un diesel. Un tir diesel. Esatto. E allora, siccome al chiuso ormai il fumo passivo è talmente schiacciante, la capacità di inquinare ci satura gli strumenti, abbiamo provato negli ultimi anni andare nelle spiagge, negli stadi e anche nelle discoteche all'aperto. Quindi con Elisa siamo andati sia in estate all'aperto e poi al chiuso in una stessa discoteca, la discoteca Pelle d'Oca di Milano che ci ha gentilmente ospitato. E abbiamo, anche qui incredibilmente, trovato più inquinamento all'aperto in estate che nelle giornate più inquinate di Milano, dove però all'interno della discoteca non si fumava. E quindi anche all'aperto il fumo è capace di emettere polveri sottili, compreso quel famigerato black carbon, il carbonio organico che dicevo prima che è un indicatore di tossicità delle polveri sottili, in maniera superiore, nettamente superiore, a quello che sono capaci i motori in delle città più inquinate come Milano o comunque la pianura padana. Insomma è bene arrendersi a questo dato perché è un dato scientifico e più che mai... che non criminalizza il fumatore. Noi cerchiamo di far capire ai ragazzi la capacità che ha la sigaretta di inquinare e quindi la necessità di non inquinare gli altri. Cioè il fumo passivo è stato bandito dalla legge antifumo perché ci sono dei dati scientifici inoppugnabili. Che dimostrano, che crea gravi danni alla salute. La cronica nuova, che è questa Icos, che ormai va per la maggiore, che è al tabacco, emette anche black carbon. E quindi, come diceva giustamente lei, bisogna usarla al di fuori dei locali. Certo, non deve essere certo un modo per tornare a fumare dove ora è presente. La ringrazio, avrei voluto parlare con lei anche d'altro tipo tema sport e fumo. Lo faremo in una prossima occasione. Ringrazio il dottor Boffi, pneumologo dell'Istituto dei Tumori. E ora noi passiamo invece la linea ad Arianna. Ringrazio il dottor Boffi, pneumologo dell'Istituto dei Tumori.